Ciao, sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Era da tempo che non parlavamo di distribuzioni 100% free software e raccomandate dalla Free Software Foundation. Negli episodi precedenti vi ho mostrato Triskel, una distribuzione GNU Linux che vi ho consigliato perché basata su Ubuntu è facile da utilizzare. Poi PureOS, una distribuzione sviluppata dalla compagnia Purism e preinstallata sui loro portatili. Poi ancora Parabola, la distribuzione GNU Linux che io utilizzo da tempo. Poi Iperbola, un'altra distribuzione basata su Arch. Poi Geeks System, una distribuzione davvero molto interessante. E oggi è il turno di Dragora GNU Linux. Su questa distribuzione si trovano davvero poche informazioni in rete. Penso che il mio video sarà una delle poche risorse al riguardo. Quindi cercherò di dare del mio meglio per mostrarvela per bene. Ma non sarà nemmeno tanto facile perché la documentazione lascia un po' a desiderare secondo me. Comunque di cosa si tratta? Dragora è una distribuzione indipendente quindi creata dal nulla, non basata su un'altra, su qualche altra distribuzione. E' stata sviluppata in Argentina. Lo scopo è ovviamente quello di essere una distribuzione 100% free software che esclude il software proprietario. Ed è anche quello di rimanere semplice. Semplice non nel senso di facile da utilizzare, ma semplice nel senso di seguire la filosofia Unix. Direi che è del tutto paragonabile a Slackware, per chi conosce Slackware, con la differenza che Slackware, la distribuzione più anziana tuttora in vita, si è dotata nel tempo di diverse utility che facilitano un po' la vita. Nel caso di Dragora non so, credo che non sia questo il caso. Comunque vediamo di partire, ho preparato una macchina virtuale, Dragora si presenta così, il boot menu di Dragora si presenta così. Noi non avvieremo la live, perché tanto ci troveremo un sistema minimale, ma andremo direttamente ad installarla. Quindi clicchiamo su Install Dragora, parte l'installer, metto in pausa e ci vediamo dopo. Vi siete persi l'init system che è Sys5. Comunque siamo alla scelta della tastiera, voi andate sulla tastiera italiana, che sarà qualcosa del genere QWERTY, slash IT. Io vado con la tastiera tedesca, qua possiamo provare la configurazione della tastiera, per vedere se tutto è a posto, dopodiché premere 1 se tutto è a posto. Quindi con 1, diamo ok. Vogliamo salvare questi cambiamenti per il prossimo reboot? Sì. Ok. Le similarità con Slackware le vediamo anche qua, perché anche l'installazione di Slackware funziona nello stesso modo, nella configurazione della tastiera, per confermare il richiesto 1.1. Va bene, adesso il tipo del mouse, io qua non ce n'è nemmeno uno, lascerò l'impostazione predefinita, do ok. Ok. GPM è per poter utilizzare il mouse su TTY, su console. Sì, lo abilitiamo. Ok. Lo vogliamo già adesso, sì. Ok. E sta partendo GPM. Esatto, come vedete posso utilizzare il mouse su console. Ok, adesso la tastiera l'abbiamo già configurata, possiamo andare con Dragora Installer. In realtà no, dobbiamo prima partizionare il disco, io lo farò con CFDisk, vediamo se è presente. Sì, CFDisk su devsda, sì, si chiama così il disco virtuale, in questo caso. Va bene. Tabella delle partizioni DOS, nel mio caso, vado a creare una nuova partizione di, facciamola di, non so, 14 giga. Primaria, va bene. Il tipo è Linux, va bene. Poi, crea una nuova partizione, 2 giga, va bene. Primaria, va bene. Cambiamo il tipo, perché la voglio come partizione di swap. Ok, quindi possiamo confermare le modifiche. Scriviamo yes, fatto, e possiamo uscire. Ora che abbiamo partizionato, credo che dobbiamo anche formattare. Non so, non ho idea se l'installer ci faccia poi formattare. Comunque vado io, con EXT4, vado a formattare la prima partizione. E con MKSwap formato la partizione di swap, la partizione SDA2. Ok, fatto. Ok, a questo punto possiamo far partire l'installer con dragora-installer. Ok. Ci chiede di inserire un altro CD con i pacchetti, dragora-packages. Beh, non ce l'ho, ho scaricato il file ISO per DVD, credo che sia tutto incluso. Vediamo se gli do O, quindi il CDREOM, così, vediamo se me lo trova. Vediamo se trova i pacchetti. Ok, è stato montato, ricerca del CDREOM, e già la vedo male. Aspettiamo ancora un attimo. Ok. Non è stato possibile trovare il CDREOM con i pacchetti. Benissimo. Vado sulla seconda opzione. E provo semplicemente a scrivere quanto è indicato. Quindi vado sulla directory var cache cache qi va bene, stiamo precedendo. Questa è la partizione swap, do OK. Questa la stiamo formattando, va bene, quindi non c'era bisogno che la formattavo io. Mi sta anche attivando l'area di swap. Adesso siamo alla partizione di root. Dobbiamo assegnare, ovviamente, un mount point, slash, appunto, root. Ok, fatto. Quindi clicchiamo su done. Questo è il file fstub. Sembra tutto a posto. Andiamo su salva. Salva e continua. A questo punto, esattamente come si fa in Slackware, si può andare a scegliere quale software installare. Io per rapidità, semplicità, andrò ad installare tutto, anche perché credo che poi ci andremmo a complicare la vita nell'installare software aggiuntivo quando non abbiamo installato le dipendenze. Spero che qui ci siano abbastanza dipendenze per software aggiuntivo che vogliamo installare. Quindi installo assolutamente tutto. Anche qua gli dico di installare assolutamente tutto. Do OK. Ok, quindi ha funzionato. Ha trovato i pacchetti, per fortuna. Questa cosa nella documentazione non si trova, quindi come vedete, per questo vi dicevo che non è tanto facile mostrarvela per bene. Ma spero di dare del mio meglio. OK, metto in pausa il video e ci vediamo dopo quando avrà finito di installare. Primo problema. Mi sono accorto che l'installazione di Grab non è andata a buon fine. Se anche a voi succede quanto è successo a me, beh, dovete procurarvi un sistema live, va benissimo anche quello di Dragora. Quindi andate in modalità live e effettuate un CH root. Allora, come prima cosa montiamo la partizione, nel mio caso SDA1, su ad esempio MNT. Poi andiamo a montare la partizione di PROC su MNT PROC. Dopodiché montiamo la partizione DEV su MNT DEV e la partizione SIS su MNT SIS. S, Y, S. Ok, poi facciamo il CH root sulla partizione MNT. Ecco, adesso siamo sul sistema che abbiamo installato. Nel mio caso dava problemi l'installazione di Grab. A quanto pare il problema è dovuto al file system, ad un'opzione del file system EXT4. E la soluzione è dare questo comando TUN2FS-O-METADATA-CSAM.SID. Sulla partizione DEV SDA1. Una volta dato questo comando possiamo installare Grab. Quindi andiamo con Grab install DEV SDA. Quindi, speriamo che questa volta va a buon fine. Esatto, non ci sono errori. Bene, a questo punto però dobbiamo aggiornare il menu di Grab. Come lo si fa? Con Grab MKCONFIG-O Su boot.grab.cfg Esatto, ok. Ha configurato una voce sul menu di Grab. Adesso sì, possiamo riavviare. Ok, finalmente ci troviamo sul menu di Grab. Quindi avviamo Dragoragnolinux. Siamo al login. Come unico utente abbiamo root. Quindi inseriamo root e la sua password. Ok, e come primissima cosa direi di aggiungere un utente. Lo possiamo fare con user add. Ah, prima dovrei impostare la tastiera. Quindi drag ora keymap. Va bene, diamo 1 per confermare. A prossimo reboot dovremmo già avere impostato la tastiera. Speriamo. Ok, dove eravamo? L'aggiunta del nuovo utente. Quindi andiamo con user add. Trattino M per creare la home. Poi trattino G maiuscola per dare l'appartenenza al gruppo will. E poi nome dell'utente. Io lo chiamerò semplicemente utente. Fatto. Diamo una password ad utente. Fatto. Ok, faccio il logout. Cosa è successo? Vabbè, vado con exit. Ok. Scrivo utente. La password. Perfetto. La tastiera è quella giusta. A questo punto vado con start X. Ed eccoci al primo avvio di Trinity. Quindi dobbiamo inserire il paese e la lingua. Proverò a cercare Italia. Quindi dov'è Europa? Italia. Eccolo qua. Come lingua italiano. Benissimo. Andiamo su next. Ok. Lascerò tutto di default. Va bene così. Avanti. Avanti. Finito. Aspettiamo un po'. Trinity dovrebbe essere basato su una versione vecchia di KDE. Quindi per i nostalgili del vecchio KDE è l'ideale. Eccolo qua. Finalmente abbiamo il nostro desktop. Chiudo tutto. Altriamo un terminale. No. Su accessori. Oppure sul sistema. Eccolo qua. Xterm. Va benissimo. Ok. Vediamo un po' su che kernel siamo. Ah bene. La tastiera. La tastiera la cambio con set xkbmap. Ok. Allora. Uname R. Siamo sul kernel 6.1. Ovviamente il kernel libre. E vediamo la dotazione software. Allora. Tra gli accessori. Abbiamo programmi di accessibilità. La calcolatrice ovviamente. Gestione di desktop virtuali. Come editor ne abbiamo. Come editor di test ne abbiamo diversi. Ad esempio Vim. KWrite. Kate. KEdit. Ovviamente software di KDE. Strumento di archiviazione. Arc. Poi controlla rovescia. Allora. Categoria internet. Abbiamo come browser internet. Abbiamo Conqueror. E basta. Come vedete. Lo spazio utilizzato sul disco. E' 11 giga. Quindi abbiamo un bel po' di roba. Preinstallata. Mi piacerebbe vedere se ci sono preinstallati altri desktop environment. Altri window manager. Ma francamente non lo so. Andiamo per tentativi. Allora. Intanto creiamo il file. Vim è preinstallato. Sì. Quindi Vim. Creiamo il file. .xenit.rc e vediamo se c'è gnome oppure xfce. Quindi scrivo exec start xfce4. Salvo il file. Termino la sessione. Esco. Vado di nuovo con start x. No. Quindi o xfce non esiste su dragora. Oppure ho scritto in modo sbagliato il comando. Va bene. Non ho idea se ci siano altri video manager. Comunque sono di nuovo su Trinity. E sto guardando la documentazione di dragora. La documentazione ufficiale. Mi sto soffermando sul gestore dei pacchetti. Allora, vediamo l'introduzione. No, beh, non c'è nulla. Ve l'ho detto che la documentazione lascia un po' a desiderare. Comunque, il gestore dei pacchetti si chiama QI. Ed è un semplice gestore di pacchetti per creare, installare, rimuovere e aggiornare pacchetti. Allora, andiamo avanti. Quindi la sintassi è qui e il comando. Il comando che ad esempio può essere install per installare un pacchetto. Oppure remove per rimuovere un pacchetto. Ok. Non vedo un comando per aggiornare l'intera distribuzione. Quindi immagino che la cosa si faccia andando a scaricare ogni singolo pacchetto. E aggiornando quello. Un po' un casino. E' una distribuzione alla Slackware però senza le utilità di cui Slackware si è dotata nel tempo. Adesso vi faccio vedere come utilizzare il gestore dei pacchetti per rimuovere un pacchetto. Andiamo con qui remove. E poi su usr. Pkg. E poi il nome del pacchetto. Ad esempio non lo so. Togliamo vim. Esatto. Vim. Faccio un asterisco per rimuovere tutto quanto relativo a vim. No. Va bene. Devo scriverlo per forza. Allora facciamo così. Ah, ho sbagliato a scrivere remove. Ok. E mi sta disinstallando vim. Non vi farò vedere come installare un pacchetto perché francamente non credo... Cioè ci sono i repository ovviamente ma mi sembra che sui repository è presente semplicemente il software che già abbiamo preinstallato. Per installare del software aggiuntivo mi sa che bisogna ricorrere alla compilazione da sorgenti. Ok. Abbiamo disinstallato vim ma c'era anche un altro pacchetto dal nome vim. Ok. Sta disinstallando anche questo quindi non abbiamo più vim. Va bene. Come vedete mi trovo un po' in difficoltà ad usare questa distro. Cioè va bene per usare tutto ciò che è preinstallato non c'è alcun problema ovviamente. Il problema è che Dragora è una distribuzione alla Slackware. Adesso non me ne vogliano gli affazionati di Slackware. Ma per quanto mi riguarda un gestore di pacchetti che ti vada a gestire le dipendenze e che sia connesso ai tuoi repository. Insomma è una cosa di cui non si può fare a meno a giorno d'oggi. E niente. Che cos'altro posso dirvi? Una distro ovviamente è rivolta ad esperti. Molto esperti. O è gente che vuole imparare. Come Slackware d'altronde. Come vedete mi trovo davvero in difficoltà. Però volevo portarvi anche Dragora sul canale. E con questo siamo quasi alla fine della playlist. Alla fine della serie. Rimane ancora Ututo. E un'altra distribuzione che però non porterò perché è una distribuzione solamente live. È molto molto vecchia. Sto parlando di Dinabolic. Va bene. Spero che il video comunque vi sia piaciuto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Clarintux. Alla prossima.